I SIC, a me sembra che è molto o veramente opportuno parlare oggi, espressamente oggi, della storia delle elezioni. In questo momento siamo attenti osservatori di un processo drammatico, sembra a me almeno, che dimostra da un lato l'importanza della sovranità del popolo e dall'altro come sia difficile trasformare il voto individuale in un sistema condiviso da tutti gli appartenenti della Repubblica. Comunque oggi qui all'ISIC, insieme con Claudia Gatzka, non intendiamo parlare delle vicende americane, forse ci saranno qualche riferimenti nella discussione, ma parliamo della trasformazione delle culture politiche in Italia e in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi parla da dottoressa Claudia Gatzka, che presento solo brevemente. Ha studiato storia, scienze politiche e etnologia presso la Humboldt-Universität e anche la Libera Università di Berlino e anche, che è importante per gli italiani, all'Università di Bologna. Nel 2016 ha conseguito la promozione alla Humboldt-Universität e poi è stata assistente all'Università di Friburgo e dall'inizio di quest'anno è attualmente una specie di assistant professor academic rating, è una posizione abbastanza difficile da tradurre in italiano, spero che è giusto di parlare di assistant professor presso l'Università di Friburgo. Nel centro del suo discorso si trova la sua monografia, pubblicata nell'anno scorso, sotto il titolo di Demokratie der Vela, Stadgesellschaft und Politische Kommunikazione in Italien und der Bundesobblick, tra gli anni 44 e 69 del XX secolo. Claudia Gatzka ha anche curato diversi volumi, di cui cito solamente due, un titolo si chiama Schleichend an di Macht, «Qui di noie richiche Geschichte instrumentalisirti umdoit un soheit. Do nostro Zukunftsjolang?», questo è pubblicato nella seconda edizione quest'anno. E un altro libro sul tema Valen in der transatlantischen Moderne, questo è un fascicolo della rivista comparativ, uscito in 2013. Gloria Gatzka ha pubblicato in italiano un sunto del suo libro che si trova in un volume curato da Maurizio Cao e me sotto il titolo Le elezioni politiche e i media che fanno parte della colana Quaderni dell'Istituto è stato pubblicato a luglio quest'anno in questo articolo l'autrice si pone la domanda e cito come siano riusciti i tedeschi e gli italiani nel dopoguerra e dopo le dittature salsiste a trovare un collegamento verso la democrazia rappresentativa il libro di Claudia Gatzka analizza per la prima volta questa tematica da una prospettiva della storiografia urbana in questo modo osserva attentamente gli incontri diretti fra elettori e eletti e questo mi sembra veramente un nuovo approccio Siamo molto curiosi adesso di ascoltare la sua relazione a lei la parola e passa la parola a te Grazie, grazie tanto per l'invitazione per l'accoglienza digitale e per la possibilità di presentare il mio libro in questa occasione Tante grazie anche a tutti che ci sono interessati a partecipare oggi sono molto contenta il mio italiano non è più così fluente come una volta ma spero di poter farmi capire in un modo sufficiente anche nella discussione che segue La mia presentazione è divisa in tre parti Per prima cosa localizzo il mio approccio metodologico nell'ambito della storiografia recente sulla democrazia Per seconda cosa presento molto brevemente qualche tesi del mio libro e per terza cosa presento un molto piccolo case study per illustrare come il mio libro tenta di modificare l'immagine storica della partitocrazia italiana in quell'ottica comparata sulla Germania federale e l'Italia repubblicana Primo punto Il mio libro fa parte di un nuovo boom storiografico sulla democrazia con dei storici tedeschi in prima fila I motivi sono abbastanza chiari in una fase segnata da una crisi percepita della democrazia stessa e della sfida del populismo di destra si è chiesto ai storici di saper raccontare come la democrazia si è sviluppata e quali grandi successi ha portato con sé Nello stesso momento la nuova storia della democrazia accentua più le similitudini e soprattutto le sfide comuni delle democrazie storiche che le differenze tra le nazioni e la loro mentalità democratica diciamo le loro strutture statali o sociali politici Io mi inserisco in questo quadro storiografico tuttavia non concepisco la democrazia come un progetto che si evolve in senso progressivo o normativo e non credo che sia sufficiente accentuare che la democrazia sia sempre in crisi e sempre fragile come è altrettanto ribadito nella storiografia sulla democrazia Questo è vero ma è anche un po' triviale A me interessano le repubbliche come configurazioni storiche con i loro problemi specifici dipendenti dalla costellazione temporale e spaziale In questo senso ho indagato in ottica comparata la Repubblica federale tedesca e la prima Repubblica italiana come configurazioni che ho chiamato democrazie dei elettori Questa concezione punta sulla qualità parlamentare delle due giovani democrazie su un lato e sulla cosiddetta gente comune gli elettori sull'altro Dopo l'esperienza delle dittature fasciste tedeschi e italiani dovettero fare i conti con questa democrazia parlamentare e ciò avvenne nel ruolo di elettori ed elettrici Il radicale mutamento del sistema portò la politica a essere presente in modo nuovo nella vita quotidiana dei cittadini soprattutto in occasione delle competizioni elettorali Italiani e tedeschi conoscevano le campagne elettorali dall'esperienza fascista dai plebisciti ma le competizioni democratiche erano qualcosa di diverso Italiani e tedeschi dovevano ora nuovamente scegliere tra una moltitudine di partiti affrontare i conflitti politici e tentare di risolverli senza ricorrere alla violenza dovevano costruire un rapporto di fiducia nei politici che intendevano proporsi come i loro migliori rappresentanti sono questi aspetti di rappresentanza legittima e delle regole del conflitto che mi interessano chi doveva e chi poteva rappresentare un popolo che si mostrava troppo grande di poter esercitare la sovranità in modo autonomo e diretta e che era stato coinvolto attivamente nella dittatura senza necessariamente aspettare la democrazia occidentale cioè parlamentare, capitalista e liberale appoggiata dagli Stati Uniti su quale fondamento potevano i nuovi rappresentanti politici chiamarsi legittimi su questo sfondo storico e come venivano organizzati i contatti e la comunicazione tra rappresentanti e rappresentati quale forma presero la concorrenza e il conflitto politico davanti alle porte dei cittadini post fascisti nelle città come vennero istituzionalizzate regole pacifiche della gara politica in ambito locale ambito quotidiano ecco le questioni che formarono il filo conduttore della mia ricerca la sfida comune per l'Italia e per la Germania fu di trovare modi di comunicazione tra il popolo repubblicano e il Parlamento come luogo di rappresentazione del popolo abitato come sappiamo dai partiti politici il mio libro è un tentativo di capire come tramite comunicazione tra la sfera del quotidiano nelle città e la sfera partitica parlamentare si creò legittimazione politica per questo mi ho focalizzato principalmente ma non esclusivamente sulle campagne elettorali come fasi intensivi di comunicazione comunicazione politica e a volte in città e a volte anche in campagna ma il mio foco principale sono le città il mio approccio si distacca dal concetto di cosiddetta democratizzazione che è stato il filo conduttore di tanti studi sulla Germania federale nei ultimi decenni che puntano sul successo storico del secondo tentativo democratico dei tedeschi per dire la verità queste ricerche e saci fioriti fin dagli anni 90 dopo la caduta della mura spesso non analizzano la democrazia ma lo Stato le istituzioni democratiche e la loro stabilizzazione un altro filo di questa ricerca ha proposto un concetto di democratizzazione come interiorizzazione culturale dei valori democratici il primo problema metodologico che si pone qua è che come storici non possiamo scoprire i valori che si trovano all'interno degli individui possiamo solo osservare le pratiche umane e quello che viene comunicato che viene all'esterno il secondo problema che si pone è che i criteri della cosiddetta democratizzazione si mostrano abbastanza arbitrari quando ci si mette a confronto con per esempio con l'Italia nella storiografia tedesca si crede che per esempio un modo di vita moderna condussa all'interiorizzazione di valori democratici ma sappiamo che la storiografia italiana racconta altre storie della modernizzazione nella seconda metà del novecento storie più pessimistiche diciamo questo mi ha disposto a scegliere un metodo che si focalizza addirittura a pratiche e comunicazioni nell'ambito di campagne elettorali in un periodo abbastanza lungo che permette di indagare come il mutamento sociale culturale ed economico nel dopoguerra percepibili nelle città impatto sulla comunicazione e sulla creazione di legittimità politica non mi interessa l'interiorizzazione di certi valori ma le pratiche e i dibattiti su certi valori democratici individuati e denominati dai quevi inoltre la mia ricerca prende in considerazione attori che normalmente non vengono ricercati nella storiografia soprattutto nella storiografia sulla Germania federale la cosiddetta gente comune l'ho già menzionato nonostante la storiografia sul nazismo ormai ha dimostrato come questa gente comune partecipava attivamente all'assetto politico e raziale della terza reich tramite approcci storiografici che considerano le pratiche le lettere i diari di gente comune per la storia della democrazia dopo la dittatura si accontenta nella maggior parte dei casi con dei sondaggi come fonti per affrontare la gente comune o meglio l'opinione di questa gente io invece ho cercato altre fonti per illuminare come la gente comune si incontra oppure si scontra con la nuova democrazia parlamentare a questo punto la storiografia italiana mi è stata di grande aiuto perché mi ha fatto capire quali fonti mi permettono di avvicinarmi alla gente comune in primo luogo i documenti provenienti dai partiti politici in secondo luogo i documenti della polizia e del ministero dell'interno e in terzo luogo la stampa locale perché tutti questi attori osservarono questa gente comune ed interagirono intensivamente con essa cito soltanto gli studi di Angelo Ventrono Stefano Cavazza Anna Tonnelli mi scusi o Rosario Folenza ma ce ne sono tanti altri che mi hanno ispirato secondo punto come si può osservare legittimità politica nella storia nella storiografia italiana è stata pubblicata un sacco è stata pubblicata un sacco di sacci sulla delegittimazione politica ma i processi di delegittimazione sono probabilmente ancora più difficili da ricercare anche perché nel mio contesto influiscono concetti normativi fortemente proliferati diciamo dalla politologia per dare un esempio il clientilismo o il voto di scambio è concepita ed indagata principalmente come un fenomeno estraneo al concetto della modernità razionale opposta al tipo di voto di opinione esercita da un cittadino maturo però forme di clientilismo possono certamente costituire un tipo di legittimità politica rappresentativa e ci erano tipi di genere anche in Germania cittadini che si sentirono rappresentati bene perché il partito scelto spesso la CDU o il candidato scelto prometteva di vivere in benessere al luogo concreto dove si buttava queste relazioni non erano così personali come nel sud d'Italia ma il fondamento di attribuzione di legittimazione fu lo stesso inoltre ho individuato alcuni codici o modelli comunicativi che potevano mettere in scena la legittimità politica così non furono messi alla luce fattori di democratizzazione universalmente validi ma un modello di legittimazione comune che aveva congiunture diverse l'ostentata vicinanza al popolo responsività e utilità dei partiti nonché la capacità dei rappresentanti politici di rispecchiare il corpo elettorale nella sua unità questo costituisce il fondamento di una legittima rappresentanza politica nelle configurazioni delle due democrazie che ho indagato nel periodo menzionato a unire e a mantenere uniti elettori e deletti non furono tanto legami ideologici e appartenenze sociali non l'ideale del sacrificio per un'idea politica e nemmeno lo scambio di opinioni politiche razionali bensì le forme di comunicazione che per il detentore della sovranità significavano che la politica era lì per lui parlava il suo linguaggio e si adattava alle sue esigenze per alcuni aspetti si trattava di una concezione populista della democrazia che poteva presentarsi sempre come legittima ogni qualvolta parlava per conto del popolo o direttamente con esso e si poneva al servizio del suo benessere con modalità di comunicazione orientata al consenso interno che derivavano dall'elettorato stesso le due democrazie parlamentari si legavano anche ai concetti di ordine del regime fascista d'altra parte la cosiddetta democrazia dei elettori si distingueva dalle rispettive dittature per il fatto che doveva presentarsi come democrazia di servizio per guadagnare fiducia in conseguenza la funzione pedagogica della politica che aveva caratterizzato l'epoca delle masse prima del 1945 andò perduta la democrazia dei elettori fu in Italia e nella Germania occidentale una configurazione storica nella quale si realizzò l'emancipazione dei cittadini dai partiti politici come elite della politica e questa emancipazione sembra finita alla fine degli anni settanta mostrare a livello comunicativo di essere al servizio del popolo fu qualcosa che riuscì alle due democrazie partitiche meglio o peggio in periodi diversi e alla luce di ciò si spiegano le differenti congiunture della legittimità della prima repubblica e della repubblica federale all'ombra dell'esperienza della dittatura si costituirono negli anni quaranta e cinquanta vari codici di legittimità politica ai quali le due democrazie dovettero conformarsi negli anni successivi la democrazia partitica italiana si sviluppò come una lo dico democrazia della presenza consapevole della propria funzione di rappresentanza con chiare reminiscenze relative alla politica di massa della prima metà del ventesimo secolo la sua legittimità si fondava sulla visibile partecipazione dell'elettorato soprattutto in piazza nonché sulle rivendicazioni sociali e sulla capacità di assicurare tranquillità e ordine pertanto ebbe bisogno di integrare il pg in un contesto caratterizzato da un diffuso anticomunismo e ebbe bisogno di pacificare con una parte consistente dei italiani che avesse un atteggiamento estremamente scettico nei confronti di tutti i partiti post fascisti o democratici però in qualità di agenzie sociali enti morali piattaforme di partecipazione democratica forze dell'ordine locale e canali di trasmissione delle risorse statali a livello locale i partiti antifascisti poterono senz'altro dimostrare la propria utilità agli occhi dell'elettorato locale puntando sulla concretezza della politica ma crearono anche grandi aspettative riguardo alle proprie capacità a livello locale che dovevano essere frustrate prima o poi e questo ho indagato con lo sguardo su Bologna e Bari ma anche su qualche altra città dell'Italia ma Bologna è stato il centro diciamo di questa ricerca e Hamburgo per la Germania federale sull'altro lato quindi due città abbastanza rosse il comizio elettorale di piazza è servito come codice universale condiviso anche da monarchici e neofascisti a indicare che la democrazia di partito italiano italiana invocava il popolo là si incontravano inizialmente i cittadini di differente colore politico o gli indecisi per intrattenersi e stabilire in qualità di pubblico di chi potesse verosimilmente svolgere il ruolo di legittimo rappresentante politico della città i nuovi attori politici furono in grado di rappresentarsi in una maniera che assomiglia al fascismo per quanto riguarda lo stile di mobilitazione di massa i cortei i simboli politici quali fazzoletti bandiere così via sicuramente il pc funge come trendsetter ma è importante notare che queste pratiche della piazza e della diciamo simbologia rivoluzionaria che mise in scena il popolo come attore centrale della nuova democrazia fu uno stile comune in Italia condiviso da tutte le forze politiche tranne che i liberali addirittura i monarchici puntarono sulla presenza di massa in piazza e questo non fu solo una reazione alla sfida che proveniva da sinistra i monarchici come i neofascisti organizzarono grandissimi comizi in città meridionali dove la concorrenza di sinistra fu molto debole mostrarsi capace di mobilizzare le masse e di prendersi i luoghi centrali delle città rappresenta lo stile democratico dell'Italia repubblicana e venne condiviso da tutte le forze politiche inoltre comunisti e cattolici ma anche partiti di destra dimostravano di avere un orecchio aperto nei confronti delle elettrici e dei elettori e delle loro esigenze nella comunicazione della propaganda capillare come venne denominata che negli anni 40 e 50 portava la politica fin oltre la soglia delle abitazioni italiane in questo modo essi allaggiavano contatti e relazioni clientali e in questo modo producevano anche le cosiddette sottoculture che rappresentavano entità strutturali complesse e assolutamente non rigide una democrazia partitica la cui legittimità si basava sulla vicinanza all'elettorato e alla sua quotidianità si trovò di fronte ad alcuni problemi quando le condizioni materiali e culturali del dopoguerra mutarono con l'avvio dei flussi migratori durante il boom economico e la diffusione della cultura del consumo di massa l'azienza dell'elettorato dalla politica dalla piazza dai cortili dove si svolse la comunicazione politica divenne più probabile adattarsi alle mutate condizioni nella vita quotidiana appariva difficile perché sia i partiti sia molti osservatori si richiamavano a tradizioni che negli anni 40 e nei primi anni 50 avevano attribuito ai partiti la propria legittimità la comunicazione politica che andava a cercare l'elettore presso i punti d'incontro della società dei consumi e lo concepiva come consumatore politico con mutate esigenze sociali non si affermò quasi per nulla in Italia nella comunicazione partitica durante le campagne elettorali conciò i grandi partiti si allontanarono nel lungo termine da un elettorato che strutturava sempre sempre più il proprio tempo libero in maniera autodeterminata soprattutto coloro che essendo giovani e mobili non avevano una collocazione stabile a partire dagli anni 60 sono finiti nella rete comunicativa di una democrazia partitica che contava molto sulla residenza e sulla presenza nonostante tutti i tentativi di rinnovamento da parte del PG e della DC gli anni 70 rappresentano in Italia la rinascita delle tradizioni espressive emotive e conflittuali degli anni 40 e 50 innescata dall'entrata in scena dei attori della contestazione ma di ciò non seguiva un nuovo avvicinamento tra partiti politici ed elettori consumatori la democrazia partitica della Germania occidentale si sviluppò al contrario come una dico democrazia dell'assenza con evidenti difficoltà di comunicazione tra elettorato e rappresentanti politici nelle città distrutte il ritorno alla politica di massa con comizi grandissimi non sembravano adeguato non sembrava adeguato e la massa perse il suo significato come simbolo di legittimità come una volta negli anni venti e trenta i tedeschi non rifiutarono di partecipare ai comizi ma i partiti stessi e soprattutto la stampa indipendente non misero a scena la politica di massa peraltro è il concetto di modernità che gli attori locali promossero tuttavia questo concetto non sempre trasportabile nell'ambito locale la stampa e il pubblico esigevano obiettività soprietà e razionalità nella comunicazione politica ma questo non poter sfociare negli anni 40 e 50 in forme di comunicazione politica davanti alle porte dei cittadini siccome anche i contatti face to face tra partiti politici e elettori si mostrò difficili gli stessi mantenero il distacco anche nei comizi piccoli non ci fu un sorogato adeguato allo stile di massa e alla propaganda vecchia che poteva connettere cittadini e rappresentanti soltanto la CDU ricorrendo a ogni sorta di folklore locale e concentrando l'attenzione sulla personalità dei candidati riuscì a mitigare e superare questa distanza soprattutto nelle campagne per i partiti tedeschi dalle scarse capacità rappresentative e dai problemi di comunicazione scatturì a differenza di quanto accade per quelli italiani una certa spinta all'innovazione essa creò già negli anni 50 incentivi alla mediatizzazione e costituì il presupposto per un nuovo orientamento pragmatico nello spirito dell'occidentalizzazione mi scusi e dell'americanizzazione come processi secolari diciamo della seconda metà del novecento in Europa la commercializzazione della comunicazione politica in Germania non modificò solo la comunicazione attraverso i mass media bensì anche la comunicazione politica urbana e diretta e queste nuove forme di comunicazione consentirono finalmente di mettere in scena che i partiti politici erano al servizio dei elettori tedeschi per esempio tramite il contatto face to face nell'area pedonale dove gli elettori fecero spesa e shopping a partire dagli anni sessanta l'incontro sull'area pedonale accompagnato da musica e deutsche bratwurst fu forse il codice più tipico della democrazia rappresentativa legittima in Germania a partire dagli tardi anni sessanta e lo è finora credo prima l'adeguamento alle logiche di mercato in conseguenza del mutamento in direzione della società del consumo di massa e poi limitazione di pratiche di attori extraparlamentari avvicinarono elettori e partiti in Germania gli uni agli altri grazie al coinvolgimento del movimento studentesco e in particolare alla sua mania di discussione nelle competizioni elettorali l'ideale dell'obiettività trovò poi espressione nella prassi comunicativa urbana e in quella sede si legò all'autorapresentazione della sovranità matura che emulava il fervore critico dei dibattiti studenteschi e poi discuteva alla pari con i partiti i temi essenziali dei tempi di crisi negli anni settanta presentandosi come democrazia del dialogo vicini vicina ai cittadini e orientata alla concretezza la democrazia partitica della Germania occidentale tra il 69 68 69 e il 76 si pose al servizio dell'ideologia politica del sano buonsenso un'ideologia che nasce già negli anni 50 che era già comparsa nei anni 50 e nel periodo della contestazione e della percezione della crisi poteva porsi sulla scena come particolarmente aperta alla partecipazione affidabile ed efficiente questo superamento delle distanze nella democrazia partitica della Germania occidentale era tuttavia fondato sulla fiducia nell'efficienza dell'establishment politico dello Stato diciamo quando nella seconda metà degli anni 70 i suoi limiti si delinearono non solo sul piano economico ma anche a livello comunicativo dato che i contenuti mancanti indicavano il venir meno della concretezza è diventato sempre più difficile esprimere che stava prendendo sul serio elettori tedeschi molto politicizzati in questo periodo in Italia invece il cosiddetto compromesso storico è connesso la disponibilità al dialogo tra comunisti e cattolici dialogo razionale non poterono essere attuati a livello comunicativo locale e ciò dipese in primo luogo da un profondo anticomunismo in secondo luogo dai partiti che tolzero ai elettori l'interesse per la politica e in terzo luogo dai elettori che accusavano i partiti di aver perso i propri tratti distintivi della cosiddetta individualizzazione di cui si parla tanto vi erano ben poche tracce nella comunicazione politica urbana degli anni settanta soprattutto nelle lettere dei cittadini alla stampa i primi segnali di partecipazione che trovarono eco soprattutto nelle fila del pc vennero semplicemente ignorate da una consistente parte dell'opinione pubblica politica invece la maggioranza di silenzione silenziosa divenne alla luce della massiccia presenza della violenza nella vita quotidiana degli anni settanta la voce guida nel dibattito pubblico locale e posa al centro dell'attenzione le disfunzioni di una democrazia partitica che aveva promesso di assicurare tranquillità e ordine in fin dei conti la cosiddetta secolarizzazione della società italiana dalla quale deriva la supposione di una più marcata votalità volatilità mi scusi non poter tradursi nello sviluppo della relazione tra elettori ed eletti essa si manifestò in realtà soltanto nella forma della delusione nei confronti di una democrazia partitica che sembrava essersi allontanata dal popolo quando alla fine degli anni settanta i suoi codici di legittimità vennero meno anche la democrazia partitica italiana così come si era sviluppata a partire dagli anni quaranta giunse alla propria fine sul piano della comunicazione e fece spazio a nuove autorappresentazioni di elettori ed eletti conformi all'epoca del consumo e dunque alla quotidianità autodeterminata dei italiani al di là di queste questioni sulla rappresentanza e la comunicazione diretta ho indagato le pratiche di conflitto politico durante le campagne elettorali e su questo campo vorrei presentare un piccolo molto piccolo case di qua sugli anni quaranta e cinquanta e così sono al terzo punto ultimo punto i comizi tedeschi piccoli comizi consentono negli anni quaranta e cinquanta e devono consentire la discussione tra i partecipanti elettori e l'oratore quindi il politico ma siccome i funzionari dei partiti tedeschi a loro volta non si fidano della competenza politica dei elettori cominciano a preparare i loro attivisti ad intervenire nelle discussioni così non si crea un dialogo tra i rappresentanti politici e gli elettori in Germania mentre in Italia i cattolici e i comunisti bussano alle porte dei elettori e propagandano capillarmente e spesso efficacemente per questo motivo gli attivisti italiani vengono educati dai partiti e dall'azione cattolica nel discutere la politica e nel essere pronti a rispondere alle domande poste dai colleghi nelle fabbriche dai abitanti dei quartieri o dai frequentatori delle chiese o dei bar in Italia si impara così molto presto già a partire dai anni tardi anni 40 la discussione politica una prassi che in Germania venne introdotta durante le campagne elettorali solo nel corso degli anni 60 in linea di massima sono gli attivisti politici tedeschi che non amano l'idea di incontrare gli elettori tedeschi che non conoscono e a loro volta i cittadini tedeschi non amano essere avvicinati dai rappresentanti dei partiti nelle loro case le fonti locali comprovano una profonda sfiducia tra la sinistra tedesca soprattutto e il resto dei tedeschi che impedisce la comunicazione locale durante le campagne elettorali cito un compagno socialdemocratico che nel 49 scrive al suo segretario della federazione hamburghese cito per distinto i compagni superano le porte se ad esempio chi ci abita è stato probabilmente un nazista o se sorgono altri motivi che giustifichino il non fare visita questa incapacità di affrontare i vicini nei quartieri post fascisti distingue il comportamento della sinistra tedesca da quella italiana dopo l'epurazione seppure sanguinosa soprattutto nel bolognese comunisti e socialisti riescono a trattare davvero gli italiani come attori liberati dall'eredità fascista gli iscritti del PG e del PSI e gli attivisti dell'azione cattolica non mostrano difficoltà nell'avvicinare i concittadini e non pongono in dubbio la loro integrità morale come popolo in questo senso il mito resistenziale crea nella prassi un terreno integrativo non solo per i partiti della resistenza in cerca di nuovi iscritti ma anche nel discorso democratico collettivo il mito resistenziale assicura che gli italiani nelle campagne elettorali si possano incontrare e dibattere su che cosa dovesse significare la nuova democrazia negli anni 40 e 50 e per quanto la cosiddetta maggioranza silenziosa faccia parte della popolazione urbana e parte anche di questo discorso volento o nolente la storiografia italiana ha messo in evidenza che sono i vertici dei partiti e la polizia che si sentono costretti a disciplinare gli iscritti nelle federazioni a mantenere l'ordine e a evitare la violenza politica io direi invece che sono i funzionari e le autorità partitiche e urbane locali che agiscono in questo senso già negli anni 40 perché il pubblico urbano lo chiede chiede questa disciplina dai partiti si sviluppa contrariamente a quanto accade nel primo dopoguerra una cultura urbana di vicinanza reciproca e multilaterale che include tutti i partiti politici che dal 46 si uniscono in comitati interpartitici che include inoltre la stampa locale le autorità locali i cittadini e la polizia così nel corso degli anni le campagne elettorali si svolgono senza incidenti già nel 53 finalmente nel 58 le tensioni e i conflitti tra attivisti e simpatizzanti di diversi schieramenti politici in Italia sono scomparsi nelle grandi città questa prassi funge come fonte di legittimazione dei partiti politici davanti ad un pubblico locale che apprezza la calma l'ordine e la pacificazione del conflitto politico nel corso di questa vicinanza urbana è diffuso nelle città italiane il concetto di democrazia è tipico per gli attori politici nominarsi democratico ed evocare il cosiddetto gesto civile quando parlano del comportamento dei loro attivisti così viene fissato un assetto di regole che depreciano la violenza come metodo politico nella Germania federale di questo periodo non esiste una cultura di vigilanza locale e non si sviluppa nemmeno un discorso sulla democrazia e sulla non violenza i tedeschi invece non ne parlano e non mostrano interesse di negoziarne il significato o le regole della democrazia manca nella Germania federale un discorso sulla violenza politica gli indizi contribuiscono a far emergere l'ipotesi che la stampa e l'apparato statale provino a mascherare i delitti violenti politici sicuramente per paura di delegitimazione del giovane assetto democratico come avvenne nella Repubblica di Weimar scontri violenti sulle strade e nelle taverne durante i comizi ci sono negli anni 40 e 50 nella Germania federale scusi ma è interessante notare che né la polizia né la stampa locale o nazionale ne parlano o se lo fanno riportano la notizia solo raramente sulla violenza in maniera concreta andava mantenuto il silenzio addirittura si può riscontrare che non esistono cifre o dati raccolti dal ministro dell'interno e dai apparati della polizia sui casi di violenza politica fino a quando non iniziò la contestazione studentesca in Germania mi avvio alle conclusioni da una prospettiva traslocale emerge l'immagine di una società post bellica italiana che discute vivacemente il significato e le regole della democrazia crea modi locali di conciliazione del conflitto politico e include una grande parte della cittadinanza urbana tra cui la cosiddetta maggioranza silenziosa suggerisco quindi un'interpretazione più ottimistica della cosiddetta partitocrazia italiana due aspetti mi sembrano centrali in primo luogo i partiti nelle campagne elettorali si mettono in scena visibilmente come rappresentanti legittimi del popolo in secondo luogo i partiti locali conferiscono a se stessi con il consenso dei cittadini il compito di gestione dell'ordine pubblico con questi ingredienti la comunicazione politica in ambito locale è funzionale alla stabilità del nuovo assetto democratico in Italia il problema però emerge con il mutamento verso la società dei consumi di massa e soprattutto con l'incapacità sia dei partiti politici sia dell'opinione pubblica di inventare ed apprezzare nuovi modi di comunicazione e di incontro con i cittadini a partire dai tardi anni sessanta i comunisti lo provano ma le loro iniziative non poterono fornire modelli universali di comunicazione perché furono addirittura di provenienza comunista così fu perso l'occasione di discutere tra cittadini e partiti strade concrete di uscire dalla crisi degli anni settanta nonostante ci fu l'occasione non la crisi economica e sociale stessa ma il modo di mettere in scena la legitimità politica e rappresentativa della partitocrazia tramite comunicazione significò la sfida centrale per la prima Repubblica italiana e adesso le ringrazio per l'attenzione magari la parola io ringrazio Claudia Gatzka per questa bellissima presentazione così ricca dal punto di vista metodologico e non solo metodologico lo ricordava il direttore quello che accade in questi giorni negli Stati Uniti ci ricorda quanto il tema sia centrale diciamo così per l'evoluzione della vita democratica dei sistemi democratici e quindi dare profondità storica al fenomeno della comunicazione politica elettorale ovviamente ci fornisce degli strumenti importanti e utili a comprendere come cambia come viene diciamo così rinegoziato nel corso del tempo il rapporto tra l'elettorato e i rappresentanti di conseguenza anche quale ruolo ha la comunicazione politica come strumento di legittimazione come veniva sottolineato ecco personalmente trovo io magari faccio qualche riflessione di carattere generale mentre i nostri ospiti possono iniziare a condividere qualche pensiero a fare qualche domanda vi ricordo utilizzando la chat ecco io personalmente trovo molto molto stimolanti alcuni profili di questa non solo della relazione ma della ricerca più più in generale anzitutto la scelta di questo percorso che si distanzia per così dire dalla storiografia sulla democratizzazione come processo e che invece dialoga con la storia sociale per diciamo così per dare una nuova profondità alla riflessione sulla democrazia come diceva Claudia Gazza come configurazione storica ecco mi sembra un elemento molto interessante un approccio molto avvincente così come molto efficace mi sembra che sia la scelta di questa prospettiva comparata per mettere a confronto la comunicazione politica elettorale italiana e quella tedesco occidentale ovviamente lo sappiamo la comparazione è una prospettiva molto diciamo così potenzialmente molto efficace ma talvolta non è condotta con con il rigore necessario ecco qui invece ci troviamo di fronte ad un approccio comparato comparativo davvero molto molto solido e a questo riguardo trovo particolarmente interessante anche la la concettualizzazione delle delle differenze tra il modello italiano e il modello tedesco quindi la concettualizzazione di quella della cosiddetta democrazia della presenza la democrazia diciamo così all'italiana versus la democrazia dell'assenza quindi più legata a queste idee di di obiettività di sobrietà di razionalità che sembra aver segnato il contesto politico elettorale tedesco per lungo tempo è un ulteriore elemento di interesse naturalmente legato almeno dal mio punto di vista alla scelta di concentrare l'attenzione su alcuni contesti cittadini quindi mettendo al tema mettendo al centro in particolare il tema della della conflittualità della conflittualità politico elettorale ecco anche questo è un modo molto efficace dal mio punto di vista per dare come dire per dare concretezza ad una ricerca che così dedicata a un tema molto ampio e che peraltro poggia su un apparato teorico e concettuale davvero molto molto ricco il libro il volume che come lettore diciamo così ho avuto il piacere di leggere di attraversare è davvero denso dal punto di vista del bagaglio concettuale teorico che viene utilizzato che viene messo in campo e peraltro si svolge e si sviluppa su un arco cronologico davvero molto ampio quindi ecco anche la messa in discussione di alcuni orientamenti interpretativi integrando diciamo così gli sviluppi degli studi sulla comunicazione politica e sulla democrazia con un'attenzione specifica al dato locale alla dimensione cittadina alla società urbana mi sembra ecco un approccio anche questo davvero molto molto interessante e innovativo e che apre naturalmente riflessioni tutt'altro che banali sul rapporto tra l'orizzonte nazionale e la dimensione locale nella ricostruzione di processi storici così complessi come quelli che vengono analizzati nel volume e che nel corso della presentazione abbiamo avuto il piacere di incontrare di conoscere ma queste sono ovviamente solo delle riflessioni molto molto generali e ora magari cedo la parola a chi vuole intervenire via chat per porre qualche domanda o fare qualche riflessione magari leggo se d'accordo leggo io le domande che mano a mano vengono fatte e poi cedo la parola per le risposte Gabriele Dottavio ringrazia per la bella presentazione e chiede se può dirci qualcosa sulle analogie le differenze italo-tedesche relative al profilo biografico degli attori degli esperti delle agenzie della comunicazione politica urbana di fine anni 40 e 50 anche in considerazione dei rapporti di continuità e di discontinuità con il passato fascista nazista ed eventualmente anche rispetto ai processi di occidentalizzazione americanizzazione la scoperta della demoscopia da cui mi sembra prenda le distanze una domandona bella densa a Claudia Gatzka chiediamo appunto una risposta su questo e poi c'è una domanda di Christoph Cornelissen che immagino arriverà grazie grazie mille per la domanda infatti è molto complessa e provo a rispondere brevemente per prima cosa le biografie degli attori per me non sono sempre facili da sapere o indagare perché io mi focalizzo su attori abbastanza anonimi diciamo non politici grandi non intellettuali ma la base degli iscritti dei partiti la stampa locale gli articoli nella stampa locale spesso non hanno un autore che non c'è scritto un nome quindi il mio lavoro io studio fonti abbastanza spesso anonimi diciamo però è vero che ci sono delle specifica o peculiarità nella Germania rispetto al trattamento del passato anche tra gli iscritti diciamo normali nella socialdemocrazia rispetto al comunismo o al socialismo nell'Italia nella relazione ho già fatto un piccolo mi scusi a volte non mi viene la parola ma possiamo andare anche sul tedesco sull'inglese sulla lingua che vogliamo ok ok ma provo e se non posso più scelgo il tedesco alla fine della mia relazione terzo punto nel piccolo quest che ho già menzionato le differenze rispetto agli iscritti dell'SPD e agli iscritti del PG che fanno che funzionano come propagandisti tra gli elettori tedeschi italiani mentre i comunisti sono abbastanza aperti verso elettori che non conoscono e che forse hanno una un passato fascista quelli quegli iscritti socialdemocratici nella Germania prendono prendono il distacco non vogliono incontrarsi con tedeschi con con cittadini che non conoscono e che forse hanno un passato nazista quindi questo è un distaccamento molto forte tra nell'ambito locale tra la sinistra e la gente comune diciamo senza un identità politica di sinistra nonostante nonostante su livello centrale della SPD Kurt Schumacher e tanti altri funzionari e politici tentano a integrare tutti i tedeschi tentano a non menzionare più la resistenza dei socialdemocratici e non vogliono sottolineare questa differenza tra tedeschi e socialdemocratici tedeschi non socialdemocratici e socialdemocratici ma a livello locale non funziona perché ci sono delle esperienze personali che non 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 vengono dimenticati facilmente questo per il passato l'altra l'altra domanda per l'occidentalizzazione un po' è la stessa risposta sul livello locale non ci sono così tanti contatti con l'America con la militare regione oppure con quello che gli americani chiamano re-education naturalmente naturalmente nella scuola per esempio oppure nei centri culturali ci sono dei contatti e poi c'è un processo di occidentalizzazione nella Germania urbana che così forse non c'è in Italia ci sono dei americani lo sappiamo anche in Italia che fanno anche dei corsi culturali soprattutto per quelli italiani che vogliono emigrare negli Stati Uniti però è più forte in Germania questo lo sappiamo ma per la comunicazione politica nell'ambito locale la comunicazione che viene organizzata dai partiti politici non è aperta per istruzioni dei americani così per esempio si discute nella Germania federale degli anni 50 si discute si fa conferenze convegni di discussioni in occasioni varie per esempio occasioni culturali insieme con dei intellettuali oppure nei centri dei americani ci sono delle convegni per praticare la democrazia però queste pratiche non vengono adattate dai partiti politici questo è forse un befun importante c'è una domanda da parte dell'attore che ha il benefit di intervenire con audio e video posso o lo devo chiudere è l'unico che può farlo grazie grazie di tutto per il discorso e la presentazione di un tema molto rilevante io vorrei brevemente almeno tornare al primo punto quando ha parlato delle esperienze politiche della gente comune esperienze del quale periodo quando ha parlato esattamente su questo punto ha fatto un riferimento al fascismo allo strumento dello plebiscito ma mi mancava un pochino l'esperienza degli anni precedenti in Germania dagli anni di Weimar sicuramente e forse anche nel caso dell'Italia degli anni precedenti del 22 e questo mi porta alla semplice domanda in Germania come si sa benissimo si è parlato per un lungo tempo sulla tese di Hans Monson dell'ombra di Weimar che l'esperienza democratico era abbastanza negativa a causa delle specifiche esperienze anche nelle campagne elettorali di questo periodo ma questo si è cambiato come ha mostrato nel suo libro e adesso mi chiedo ancora un pochino quando esattamente e perché questa immagine negativa si è cambiato lentamente ma si è cambiato già negli anni 50 e lo posso mostrare anche con un esempio specifico come sa forse ho scritto questo piccolo libro su Gheat di Friburgo e quando ho letto le sue lettere degli anni 50 si può vedere sentire quasi come il suo cambiamento verso la democrazia si è cambiato negli anni 50 verso la democrazia in un modo che l'ha ricordato molto positivemente perché è stato efficace questo è il suo argomento il sistema funziona questo scrive nelle sue lettere e per questo mi chiede un pochino come si può misurare forse questo effetto di un consenso che cresce come l'ha mostrato anche nel suo libro anche oggi nel suo discorso in un pubblico più grande nell'estrare nelle campagne elettorali e altri punti di incontri politici nel pubblico non possiamo andare più avanti in questo senso o rimane un pochino nel grigio nel buio perché non esistono i fondi per dimostrarlo grazie mille grazie mille ho ancora il devo sì grazie meglio così sì l'esperienza di Weimar per il discorso locale pubblico quindi nella stampa locale di Hamburgo ma anche di Ulma un'altra città un po' più piccola nel sud della Germania che ho indagato l'esperienza di Weimar è molto importante in primo luogo perché questa questo concetto di modernità della comunicazione politica cresce sullo sfondo di questa esperienza di Weimar l'esperienza di Weimar significa nel discorso degli anni 50 significa lo stile di massa ma soprattutto la violenza la violenza sulle strade il caos diciamo e per questo o sullo sfondo di questo cresce questo concetto di modernità razionalità della politica sono i giornalisti locali che scrivono non vogliamo più il Kampfzeit così viene non si parla mai della Repubblica di Weimar ma della Kampfzeit quindi degli anni 30 di fru anni 30 anche nei partiti politici questo sfondo di Weimar è uno sfondo scuro su cui si 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 deve sviluppare nuove idee di comunicazione e rappresentazione sulle strade quindi è sempre è sempre là come Sebastian Ulrich ha già mostrato sul livello di del discorso intellettuale e parlamentare nella Germania anche nel ambito locale c'è eppure se mi ricordo bene nelle lettere dei cittadini che ho letto lettere adressate ai partiti politici anche lì sì la Repubblica di Weimar viene nominato chiamato come un'esperienza difficile e questo è difficile soprattutto per la socialdemocrazia perché c'è uno schieramento dei tedeschi che può supposso una continuità tra l'assetto partitico il sistema partitico di Weimar e il sistema partitico della Germania federale della CDU invece perché non si mostra non si chiama un partito si chiama un'unione può avere l'aspetto di essere qualcosa completamente nuova ma la socialdemocrazia è un segno di questa Repubblica di Weimar del sistema di Weimar e anche per questo ci sono dei distacchi delle distanze tra la socialdemocrazia e una parte grande dei elettori della Germania federale quindi sì nel libro provo attento di mostrare anche che il problema del discorso sulla violenza politica che c'è nella Germania federale negli anni 40 e 50 c'è violenza politica durante le elezioni durante le campagne elettorali c'è pure almeno un morto però non c'è un discorso sulla violenza politica contrariamente al caso italiano e questo tento di augmentare che questo assenza del discorso sulla violenza e anche sulle regole della democrazia democrazia divenne immerse da questa esperienza della Repubblica di Weimar perché per i coevi tedeschi è normale pensare che la democrazia significa violenza perché in Weimar è stato così quindi per loro forse non è così non è così überraschend che la nuova democrazia porta a violenza durante le campagne elettorali questo per Weimar e la seconda parte della sua domanda forse non ho capito bene o è già è già è già ok è così ok grazie una domanda di Nicola Camilleri che ringrazia per la magnifica presentazione sarebbe curioso di sentire qualche considerazione sul ruolo delle donne nei due paesi in considerazione anche della strumentalizzazione del ruolo femminile nei regimi fascista e nazionalsocialista e del lento processo di emancipazione negli anni del dopoguerra grazie Nicola non ti vedo ma ci vediamo un giorno sicuramente le donne sì le donne sono sono presenti nel libro soprattutto sempre quando ci sono osservabili innovazioni della comunicazione diretta e questo è molto molto interessante secondo me le donne sono quasi le fulcri di innovazione dei partiti politici dopo la guerra per esempio in Italia soprattutto a partire dai 45 prima delle prime elezioni sono elezioni locali mi sa nel 46 a partire da questo momento i partiti oppure l'azione cattolica nel caso democristiano cercano a avvicinare le donne le donne come nuove elettrici che devono essere devono essere mostrati come si si vota come si spesso non possono leggere quindi sono educati devono essere educati come diventare elettrici veri e propri e con questo diciamo con questa idea gli iscritti ai partiti soprattutto gli iscritti femminili vanno nelle case nelle abitazioni delle italiane e provano a avvicinarle direttamente a parlare direttamente quindi le donne sono molto importanti per l'invenzione della cosiddetta propaganda capillare in Italia a partire dagli anni 40 prima si fa propaganda capillare tra le donne perché si pensa che le donne non leggono non escono da sole e quindi è importante avvicinarle direttamente e parlarle direttamente poi negli anni 50 questo concetto di propaganda capillare perché si è mostrato così così erfolgreich successo ha avuto così successo si si traspone nella comunicazione politica diciamo universale quindi anche gli uomini sono adesso sono target di questa propaganda capillare per Italia per la Germania la storia va diversamente perché ancora soprattutto le donne socialdemocratiche non vogliono avvicinarsi così alla donna tedesca soprattutto anche perché hanno un concetto della politica molto razionale molto diciamo tematico per partiti tedeschi la politica negli anni 50 significa relazioni su temi teoretici forse sul socialismo nel caso della socialdemocrazia e non significa dare a casa e parlare con donne in cucina su problemi concreti questa è una differenza importante tra queste due democrazie italiani parlano i partiti italiani parlano di problemi concreti i partiti tedeschi nelle città parlano di temi teoretici molto sulla nazione vogliono parlare dallo stato che è così debole quindi non non hanno le donne dei partiti tedeschi non hanno l'interesse di cercare donne tedesche anche forse perché no la la il suffragio delle donne tedesche è più più vecchio quindi sono già educati nel pensiero dei coevi e secondo i socialdemocratici le donne tedesche sono anche responsabili per Hitler perché hanno votato potevano votare nel 33 quindi c'è ancora una distanza forte l'ultima parte della mia risposta sarebbe che tuttavia negli anni 60 quando la socialdemocrazia si apre verso le forme commerciali della comunicazione politica tramite americanizzazione con consumo di massa anche poi la donna è un importante fonte di innovazione soprattutto perché i socialdemocratici ma anche i democristiani cominciano a chiedersi come possiamo raggiungere le donne nelle città e per raggiungere le donne nelle città cominciano a fare dei comizi piccoli un po' intrattenimento con il caffè e il dolce e così nuove forme che noi possiamo chiamare a politica ma secondo me non è un concetto giusto è una forma di politica ma molto aperto al al consumo o al tempo libero queste nuove forme politiche in tedesco e forme della comunicazione politica nella Germania sono pure come ho detto ispirate dalla donna come oggetto della politica c'è poi un'altra domanda oltre ad altri ringraziamenti e complimenti Federica Furfaro chiede il Grungesetz della BAD prevedeva espressamente che i partiti collaborassero alla formazione della volontà politica del popolo il Patai Gesetz del 67 enfatizza ulteriormente il ruolo dei partiti che diventano soggetti di diritto costituzionale possiamo interpretare questa risposta del legislatore anche come una reazione ai problemi di dialogo tra partiti e collettività che sono stati messi in luce nella ricerca una domanda molto interessante un'ipotesi da indagare secondo me io non posso rispondere perché io non lo so ma forse una ricerca nel futuro potrebbe indagare sarebbe molto interessante grazie è un'idea che non avevo al momento non vedo altre domande magari ne aggiungo una io più legata alla scelta dei casi di studio quindi come è avvenuta questa scelta ovviamente le questioni della rappresentatività dei singoli casi di studio in particolare Ramburgo Ulm Bari Bologna immagino che si devono sposare si leghino anche a questioni molto più concrete legate alla disponibilità degli archivi all'apertura di archivi come è avvenuta la scelta di questi casi di studio e quali limiti eventualmente ha incontrato nella pratica della ricerca Sì infatti hai ragione la scelta è venuta per prima cosa ho cominciato a Berlino quando studiavo avevo scelto Hamburg perché c'era un quotidiano importante che esisteva nella biblioteca di Berlino Hamburger Abendblatt un quotidiano importante locale di Hamburgo e così ho cominciato con Hamburgo e poi ho fatto Erasmus a Bologna e sono andata nell'archivio e sapevo che Bologna avesse questa tradizione rossa non sapevo naturalmente che fosse un archivio così grande del PC a Bologna quindi sono stata molto fortunata anche perché c'era un un bestand un fondo grazie un fondo archivistico della DC regionale della Emilia-Romagna federale e comunale quindi c'è una quella molto ricca per Bologna e questo è importante soprattutto per la DC perché ho provato a trovare un altro fondo locale o provinciale per la DC ma è molto molto difficile c'è quest'archivio molto bello a Roma dove sono stato la non mi ricordo bene mi scusi sono lo storzo grazie l'istituto storzo e c'è molto materiale ho visto quasi tutto anche tanti tanti tante lettere dai provinci che mi hanno aiuto a capire cosa cosa va però non ci sono quasi per nulla fondi sui comitati provinciali e comunali ci sono nel sito web però quando si scrive non si risponde e così ho scelto Bari più o meno perché esiste un pochino esistono un po' un fondo così forse su sulla DC ma poi c'è il fondo Aldo Moro nell'archivio dello Stato a Roma e così tramite Aldo Moro che rappresentava Bari e la circoscrizione potevo un po' indagare questo luogo volevo indagare pure un'altra città nel nord nord est per la tradizione forte cattolica ma non sono riuscita a trovare fonti che mi permettevano e poi per la Germania Ulma è stato non mi ricordo bene ma forse anche per i quotidiani perché la stampa locale per me è stata una fonte molto importante e molto sottovalutata secondo me perché noi come storici studiamo sempre i grandi la stampa importante pensiamo ma la gente comune legge stampa locale questo è per loro fino ai anni 90 soprattutto Germania importante e così ho scelto Ulma è un po' difficile perché Hamburgo e Ulma sono due non sono veramente città cattoliche e non sono veramente città industriali però neanche Bologna lo è neanche Bari quindi ho scelto un po' un design di città che non hanno un profilo molto molto chiaro sono un po' quindi è così è Hamburgo e Bologna sono comparabili perché sono centri del socialismo diciamo a partire dal 800 quindi nonostante Hamburgo è molto più più grande ovviamente che Bologna e forse Milano o forse non lo so Napoli sarebbero stati interessanti pure però dovevo limitarmi sicuramente la ricerca funziona effettivamente così al momento non vedo altre domande quindi faccio l'ultimo appello ora o mai più sembra mai più quindi direi che possiamo avviarci alla fine di questo riuscitissimo seminario web non so se il direttore vuole aggiungere qualcosa salutare salutare saluto allora facciamo così grazie di nuovo anche da parte mia per un bel discorso anche per una lunga discussione che a me sembrava molto interessante perché abbiamo discorso diversi punti importantissimi di questa tematica rimaniamo forse così che i nostri webinar continuano fra un po' con una presentazione del libro di Gustavo Cormi della Repubblica di Weimar forse è interessato di collegarsi e di nuovo grazie perché è un gran sforzo naturalmente anche in questo periodo di farlo noi incominciamo adesso di insegnare all'università anche a Friburgo suppongo e questo costa tempo e anche questo intervento ha costato tempo di nuovo grazie per aver fatto ok